Io la considero l'ennesima provocazione che arriva dopo un'escalation intollerabile di repressioni. Penso alle arresti che sono avvenuti ai danni di studenti, di intellettuali, di scrittori. Penso alle ONG che sono state decimate per gli arresti o al partito filocurdo. Quindi in realtà è l'ennesima provocazione che non sorprende, rispetto alla quale noi dobbiamo reagire. Le istituzioni europee devono reagire con molta fermezza, con molta durezza, con la durezza e la fermezza che merita un criminale come Erdogan. Con la delegazione dei parlamentari europei del Partito Democratico abbiamo manifestato sotto l'ambasciata turca per chiedere il rispetto dei diritti umani in Turchia e il rispetto dei diritti delle donne.